Amici carissimi, con questa domenica entriamo nella settimana più santa dell'anno e anche noi facciamo il nostro ingresso a Gerusalemme, questa domenica delle palme sono due i testi del Vangelo che si leggono, uno breve, proprio che parla dell'ingresso di Gerussù a Gerusalemme accolto con gioia, con festa dalla gente, con rami di olivo, con palme e va su una puledra, entra a Gerusalemme come il grande re Davide, Davide fece il suo ingresso a Gerusalemme dal re non sul cavallo ma su una puledra, quindi viene celebrata la regalità di Gesù, Gesù è il nuovo Davide che viene a riportare l'unità del regno, l'unità dell'umanità, ma mentre Davide lo ha fatto un po' con le sue conquiste, lo ha fatto con la guerra, Gesù lo farà con con la morte, con la sua vita data in riscatto per tutti. Questo è il Vangelo che si legge prima di benedire le palme e i rami di olivo, poi nella celebrazione che segue immediatamente dopo si legge tutto i due capitoli 26 e 27 di Matteo, cioè il racconto della passione di Gesù. Questo racconto è il cuore, il cuore del cristianesimo. I Vangeli non sono stati scritti a partire dall'annunciazione a Maria o dalla nascita di Gesù, ma a partire dalla passione di Gesù. Il cuore del cristianesimo è il Dio crucifisso, quindi un Dio che non va pensato lontano, non va pensato nel cielo, un Dio che non è onnipotente, nel senso che manda maledizioni, benedizioni, strali, terremoti, un Dio che sta lì a perdere tempo per vedere se sbagliamo o no premiarci o giudicarci. No, il cuore del cristianesimo è un Dio che muore, che muore per noi. Sì, Dio è morto, cantava a Guccini con i nomadi, ed è vero, Dio è morto, ma non è morto nella società, è morto Lui e in quella morte ha toccato il limite dell'esistenza umana. Dio ci capisce nella sua morte, ci capisce nei tradimenti che ha patito, nella flagellazione, in quei chiodi che gli trafiggono il corpo, nella langia che gli trapassa il costato. Dio ci capisce. Può un Dio essere così umano come è stato davvero in Gesù di Nazareth? Certo che può. Per questo è possibile che ogni uomo sia divino, perché in Gesù, lasciandoci attirare da Lui, percorrendo i Suoi sentieri, ricalcando le Sue orme, che sono orme d'amore, di dono, di perdono, di accoglienza. Noi possiamo diventare come Dio. Il desiderio antico di Adamo viene soddisfatto, ma dobbiamo imparare a morire. Questo vuole dire allora il Vangelo. Devi partire dal contemplare un Dio che ti ama a tal punto da dare la vita per te, di un Dio che muore per te. Quindi tu non sei lontano dal suo cuore, tu non sei lontano dal suo abbraccio. Lui ti tiene per mano, anche se tu pensi di divincolarti. Da lì poi tutto il resto del Vangelo. Questo è il cuore. Che allora possiamo entrare in questa settimana santa nel cuore di Dio per conoscere meglio il nostro cuore e trasformarlo in culla d'amore per tutti. e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Grazie mille. Grazie a tutti